ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi è la vigilia quindi vi faccio già tanti auguri per un buon natale visto che ho cominciato qui appunto l'ultimo video prima di natale ci vedremo comunque tra natale e capodanno non preoccupatevi questo qui è un video un po particolare perché appunto tratta di un evento che c'è stato qui nel mio paese a filimbergo perché dopo un bel po di anni sono tornati i crampus per chi non dovesse essere del nord in particolare trentino friuli parte alta del veneto o aver frequentato germania austria o comunque sia paesi con questa tradizione vi spiego un attimino che cosa sono i crampus visto che appunto potreste essere un attimino scioccati da questa cosa i crampus sono delle figure demoniache che sono legate alla mitologia cristiana e che generalmente affiattano la figura di san nicola si aggirano per le strade alla ricerca dei bambini cattivi sostanzialmente mentre san nicola si occupa dei bambini buoni durante la sfilata senza inibizione rincorrono e frustano più o meno chiunque gli capi di a tiro sostanzialmente anch'io mi sono presa qualche bella frustata devo metterlo a spin bergo è arrivato il gruppo di merano non c'era san nicola che san nicola è già passato da un po però appunto c'erano i crampus in corteo e sfilata per le vie del centro ho appunto approfittato della situazione per portarvi un video per farvi conoscere questa tradizione e spero che vi piaccia no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.